al centro dell'antica via della seta c'è un paese che sembra uscito da uno dei racconti delle mille una notte e poco importa se non siamo ad agraba perché se chiudi gli occhi forse riusciresti anche a vederlo quel giovane ladruncolo di aladin scappare dalle guardie del sultano per le vie della città non siamo in iraq non siamo in cina non siamo nella penisola araba siamo in uzbekistan un luogo che sembra sospeso tra due mondi quello sovietico dell'ex urs dalla quale ha ottenuto l'indipendenza solo nel 1991 e quello arabo da cui deriva da secoli la fede islamica che maggioranza nel paese l'uzbekistan merita di essere visitato almeno una volta nella vita soprattutto da chi come me ama viaggiare in giro per il mondo e spero che con questo video se ne capisca il motivo il mio viaggio in uzbekistan inizia da tashkent la capitale del paese e credimi se ti dico che è incredibilmente una delle città più verdi che io abbia mai visitato nonostante sia la capitale di un paese che è per buona parte desertico tashkent è una città moderna e in continua evoluzione che ospita oltre 2,3 milioni di abitanti ma è piena di richiami a quei due mondi di cui parlavamo prima l'influenza dal mondo russo la ritroviamo negli antichi palazzi costruiti durante il periodo sovietico che in parte vengono abbattuti per lasciare spazio alle nuove costruzioni e in parte resistono come simbolo di quell'epoca ma il retaggio sovietico possiamo riconoscerlo anche nella rete metropolitana inaugurata nel 1977 le stazioni più antiche della metropolitana di tashkent sono una diversa dall'altra e ognuna un affascinante esempio dell'architettura del realismo socialista l'altro mondo quello legato alla fede islamica lo ritroviamo invece nei luoghi religiosi nelle moschee e nelle madrasse in buona parte molto più antiche e a mio parere anche più suggestive degli edifici sovietici infine per immergerci completamente nella cultura osbeca quella di un popolo che ha fatto del commercio tra l'oriente e l'occidente il suo punto di forza non dovrebbe assolutamente mancare una visita ad uno dei tanti mercati cittadini tra cui il più importante è sicuramente il chorsu bazar prima di andare avanti col nostro viaggio in uzbekistan voglio darvi qualche informazione su come raggiungere il paese dall'italia esistono dei voli diretti per tashkent da milano malpensa ma nella maggior parte dei casi è più economico fare uno scalo a istanbul io invece dovendo partire da napoli e avendo i tempi ristretti ho dovuto fare scalo a tel aviv in israele due mesi prima dell'inizio dell'ultimo conflitto israelo palestinese in tutto il costo dei voli tra andata e ritorno per me è stato di 1100 euro e 83 centesimi ma era agosto e ho prenotato con poco anticipo in momenti diversi si riesce a stare tranquillamente sotto i 550 euro lasciata tashkent la seconda meta del mio viaggio in uzbekistan è stata dall'altra parte del paese nell'antica cittadina di kiva che dal 1991 è patrimonio dell'umanità unesco e guardando le immagini sono sicuro che si capisce facilmente il motivo la parte antica della città di kiva è circondata dalle immense mura di fango e mattoni che per secoli l'hanno resa una fortezza inespugnabile alle porte del deserto kiva è stata per anni capitale di un canato indipendente e ha prosperato anche grazie al commercio degli schiavi che portava in città acquirenti da tutta l'asia centrale tra i tanti edifici storici presenti all'interno delle mura di kiva quello che spicca di più è sicuramente il minareto kaltaminor la torre circolare incompiuta che è uno dei simboli dell'uzbekistan più riconosciuti in giro per il mondo per arrivare da tashkent a kiva ci è voluta una lunga notte in treno attraverso il deserto fino alla stazione della vicina città di urgenci questo spostamento così come tutti gli altri transfer e i soggiorni nelle varie strutture in cui abbiamo dormito sono state organizzate da we road l'agenzia con la quale sono partito per l'uzbekistan in questo viaggio di gruppo organizzato da loro a we road per soggiorni e transfer ho pagato in tutto 1298 euro comprensivi però anche di 99 euro di assicurazione per eventuale annullamento del viaggio dopo kiva sono stato a bukara il centro religioso più importante di tutto l'uzbekistan bukara è una città ricca di moschee madrasse ed altri edifici religiosi e per secoli è stata un importante snodo di passaggio al centro dell'antica via della seta tanto che proprio qui per più di tre anni nel 1200 vissero nicolò e matteo polo cioè il padre e lo zio del veneziano marco polo uno dei viaggiatori più conosciuti dell'antichità grazie al suo libro il milione bukara come kiva è un museo a cielo aperto patrimonio dell'umanità unesco e se volete accettare un consiglio datemi retta fatevi un bel giro dopo il tramonto perché l'illuminazione notturna degli edifici più antichi è uno spettacolo da non perdere da bukara con un van ci spostiamo verso nord passando prima da nurata una città fondata nel 327 avanti cristo dal macedone alessandro magno per immergerci poi nel deserto del chizilcum il chizilcum desert copre gran parte del territorio uzbeko ma al suo interno sono presenti diversi insediamenti e anche l'aidar lake un lago artificiale creato per sbaglio a fine anni 60 dai sovietici per evitare il crollo della diga di shardara nell'odierno kazakhistan il lago aidar oggi è balneabile e chiaramente una volta lì non bisogna farsi mancare un bel bagno nelle sue acque lasciate le sponde del lago si va poi in uno dei vicini accampamenti di yurte per passare la notte la yurta è la tipica tenda utilizzata per secoli come abitazione mobile dei popoli nomadi dell'asia centrale tra cui i mongoli che ancora oggi in buona parte continuano a vivere in questa tipologia di casa tradizionale prima di dormire però una passeggiata sui cammelli lo spettacolo del tramonto e infine il falò accompagnato da un po di musica popolare del vicino kazakhistan non ci resta che vedere l'ultima tappa quella di samarkand la vera perla dell'uzbekistan prima però voglio rubarti solo qualche secondo per parlarti di get your guide la piattaforma che io stesso uso spesso quando organizzo i miei viaggi per programmare le attività più particolari nei posti che visito get your guide è una piattaforma sulla quale è possibile ricercare e prenotare escursioni attività e tour guidati praticamente ovunque nel mondo ad esempio ricercando samarkand possiamo vedere tutti i tour guidati disponibili in città e spesso si trovano anche esperienze davvero fuori dal comune io vi lascio il link a get your guide in descrizione dateci un'occhiata perché offre attività interessanti ovunque vi troviate nel mondo magari anche vicino casa vostra ora però torniamo in uzbekistan e arriviamo finalmente a samarkand tutto quello che ho udito di maracanda è vero tranne il fatto che è ancora più bella di quanto immaginassi diceva così alessandro magno dopo aver visitato la città dalla quale deriva l'odierna samarkand e non possiamo che dargli ragione l'antica capitale del regno di timur il condottiero che noi conosciamo come tamerlano ci accoglie con tutta la magnificenza del suo registan l'immensa piazza simbolo di samarkand e di tutto l'uzbekistan racchiusa su tre dei quattro lati da tre enormi madrasse una più bella dell'altra samarkand è stata per secoli meta di passaggio dei più grandi viaggiatori che dall'ase centrale si spostavano verso l'europa e poi percorrevano il cammino inverso e ce lo ricorda anche vecchioni nella famosa canzone dedicata a questa città se il regista nel cuore della città ci sono almeno altri due luoghi che non bisogna perdersi a samarkand uno è il mausoleo di tamerlano che conserva ancora oggi le tombe dell'emiro timur e dei suoi figli l'altro è la necropoli shahizinda un complesso di mausolei dove secondo la leggenda sarebbe sepolto kusam imnabbas cugino del profeta maometto venuto in uzbekistan per diffondere la religione islamica samarkand è stata l'ultima tappa del mio viaggio prima di tornare a tashkent per rientrare in italia non è facile racchiudere le esperienze di un viaggio del genere in un singolo video ma sono convinto quando dico che anche per me che ho viaggiato tanto l'uzbekistan è stata una di quelle mete che mi ha stupito davvero in positivo come al solito a fine video riporto il resoconto di tutte le spese che ho dovuto sostenere per questo viaggio abbiamo già visto il costo dei voli e quanto ho pagato a we road per soggiorni e transfer e a queste spese si aggiungono 208,34 euro per le attività extra pagate direttamente sul posto 122,83 euro per i vari pranzi e cene 8,34 euro per i trasporti privati principalmente quelli tra l'aeroporto di tashkent e il centro città 12,50 euro per la sim telefonica locale e infine 32,99 euro per souvenir e spese varie il totale è quindi stato di 2.783 euro e 83 centesimi che forse è tanto per nove giorni ma va considerato che ho pagato quasi il doppio del normale per i voli dato che era agosto e che organizzando lo stesso viaggio senza un'agenzia come we road di mezzo forse si riesce a risparmiare qualcosa in più anche su soggiorni e trasporti interni anche perché l'uzbekistan è molto economico per noi europei con questo video cercato di trasmettere un pochino della meraviglia che è stato questo viaggio perciò spero tu voglia lasciare un like per supportare il mio canale in segno di apprezzamento ti invito anche a dare un'occhiata agli altri video presenti sul mio canale e ad iscriverti se ancora non l'hai fatto così possiamo darci appuntamento al prossimo video